Ridota da 25 a 20 km orari la velocità massima sulle strade urbane, invariato il limite di velocità sulle aree pedonali e rimane espressamente vietato circolare sopra i marciapiedi o andare contromano sulle strade. Queste le novità e le conferme riguardanti i monopattini dopo l'entrata in vigore del nuovo codice della strada. Non siamo certi in una metropoli e l'uso del monopattino ad Arezzo non è così diffuso, anche se purtroppo ci sono già stati due gravissimi incidenti. Uno a giugno in cui perse la vita un 67enne e uno ad agosto in cui è rimasto gravemente ferito un 57enne. In entrambi i casi dopo la caduta i due aretini avevano battuto violentemente la testa a terra e proprio sull'uso del casco è considerato inspiegabile non aver reso obbligatori appunto i caschi per i maggiorenni, oltre a targhe e assicurazioni. Sì, anche i monopattini diciamo che sono quei veicoli che hanno visto un loro aumento e forse degli errori di base, cioè essere cercato di facilitare l'uso del monopattino senza una disciplina chiara. Quindi l'uso del casco, perché anche in questo caso il monopattino andrebbe usato sia per i maggiorenni che per i minorenni con il casco. Invece l'obbligo del casco per i maggiorenni non è ancora diventato obbligatorio. E però da un punto di vista tecnico e di manualità io ritengo che sia più bravo un ragazzo di 16 anni che una persona, questo non me lo vogliono i cinquantenni o sessantenni che le vedi su questi monopattini senza i caschi protettivi. E' come l'uso delle piste di sci del casco, è il solito discorso, man mano che l'età avanza le capacità di disciplinare il mezzo diminuiscono.